La tutela dell'ambiente necessita sempre più di un approccio multidisciplinare che metta insieme le esperienze dei tecnici con quella dei giuristi e degli economisti. Questo è uno dei messaggi partiti dal convegno sulla tutela dell'ambiente promosso dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno con quello degli avvocati. Sicurezza, d'empimenti ed opportunità, questo è il sottotitolo del momento formativo che ha affrontato un argomento dei molteplici risvolti anche legati al turismo e quindi all'economia del territorio. A parlarne i docenti universitari, ricercatori, giuristi esponenti delle forze dell'ordine e del ministero per l'ambiente. La materia tutela dell'ambiente è una materia trasversale che giocoforza deve implicare una sinergia completa tra tutti gli attori in campo partendo dalle istituzioni agli operatori di settore agli amministratori quindi effettivamente è una materia multidisciplinare e come tale va anche in certo senso tutelata sotto il profilo anche delle reciproche interazioni. Naturalmente più è comune e condiviso lo sforzo più saranno belli e sicuramente degni di nota i risultati che potranno derivarne da questo sforzo comune. Le armi in questo momento in mano a punto di vista normativo sia dalle forze dell'ordine, delle amministrazioni sono quelle giuste insomma per affrontare il problema? L'evoluzione della normativa in materia di tutela ambientale si è sempre più andata a consolidare alla luce anche dell'inserimento nel codice penale dei reati ecoambientali cosiddette insomma dopo un lungo percorso quasi ventennale è venuta fuori la legge del 68 del 2015 che ha dato agli operatori di settore nuovi strumenti sicuramente più consoni, più afflittivi per poter essere utilizzati nel contrasto alla lotta dell'eco che mi era organizzata. Il convegno rientra nelle iniziative seguiti al corso di formazioni di esperto in legalità agroambientale attivato nell'ultimo anno accademico per la seconda volta all'università di Salerno dal consorzio dell'osservatorio dell'appennino meridionale. Si intendeva mettere proprio a confronto con le competenze diverse sui temi della legalità nella gestione dell'ambiente. L'osservatorio è un consorzio che si trova all'interno dell'università, il presidente e il professore Saritano, il direttore e il professore Sica al quale si deve proprio l'idea iniziale di proporre un corso che mettesse insieme questi aspetti diversi e quindi tre moduli in cui si è articolato il corso, siamo al secondo anno e a conti fatti se questo convegno è stato il risultato del corso possiamo essere soddisfatti pensando che ha risposto a un'esigenza che oggi c'è attuale. L'ambiente richiede l'interazione e la collaborazione di più forze che opera sul territorio perché è la sfida vincente che abbiamo per il futuro. Grazie. 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 Grazie.